ciao lettori elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video la mela anzi in particolare la buccia della mela costituisce un antico rimedio della nonna in grado di risolvere per noi un problema molto fastidioso e anche molto comune infatti non tutti sanno ma si può utilizzare la buccia di mela per eliminare i desideri di calcare fastidiosi e per questo motivo che noi di mamma style scogitiamo sempre dei rimedi utili ma poco aggressivi per la nostra persona per sbarazzarcene con la buccia di mela farlo è molto semplice e conoscere questo rimedio ti sarà questo proposito di grande aiuto prendiamo una mela e ricaviamone la buccia mettiamo un pentolino con dell'acqua sul fuoco e mettiamo al suo interno la buccia di mela portiamo tutto a bollore facciamo bollire un paio di minuti poi spegniamo e lasciamo intipidire a questo punto possiamo tirare a lucido il nostro servizio di posate ci basterà intingerle all'interno della soluzione e poi provvedere a risciacquarle e ad asciugarle accuratamente per eliminare ogni residuo ma possiamo eliminare anche quel calcare che si trova all'interno o fuori dalle nostre pentole infatti ci basterà risciacquare dentro e fuori la nostra pentola con la suddetta soluzione e il gioco sarà fatto avremo eliminato così e mandato via il calcare in pochissime mosse come sempre se ti va lascia un like iscriviti al nostro canale e per tantissime altre curiosità visita il nostro sito www.mammastyle.it iscriviti al nostro canale